Seconda puntata di quelle che sono le news del doc, si lo so avrei dovuto fare un video anche la settimana scorsa, avevo promesso che avrei fatto qualcosa con cadenza settimanale ma come tutti gli esperimenti e come tutti quelli che sono i progetti in fase iniziale ci possono essere ancora delle problematiche nella gestione ma oggi seconda puntata di quelle che appunto sono le news del doc che mi porteranno a riassumere in maniera abbastanza rapida chiaramente senza andare ad approfondire più di tanto quelle che sono le notizie più rilevanti più o meno dell'ultima settimana però prima di iniziare io come sempre vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella per non perdervi neanche uno dei prossimi contenuti poi se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentatelo chiaramente con le vostre opinioni, con quelle che sono le notizie secondo voi più importanti condividetelo, fate tutto quello che desiderate e poi vi ricordo in descrizione trovate tutti i miei riferimenti per i miei canali social nei quali potermi ulteriormente seguire, twitter, telegram, facebook, instagram poi avete la mia wishlist amazon se volete farmi un regalo e un link amazon da usare per fare qualunque vostro acquisto voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da amazon al sottoscritto quindi questi sono i modi che avete per potermi supportare ma bando alle ciance e passiamo a quella che è appunto la nuova puntata delle news del doc una puntata nella quale andrò ad elencarvi tutta una serie di notizie più o meno rilevanti chiaramente ce ne sono alcune che hanno un'importanza sicuramente maggiore rispetto ad altre però sono delle notizie che hanno fatto discutere proprio negli ultimi più o meno negli ultimi sette giorni alcune di queste notizie tra l'altro riguardano sia film in uscita che sono già usciti o che usciranno a breve sono notizie riguardanti anche pellicole che sono in fase di pre-produzione o in fase di realizzazione quindi si stanno girando le varie scene altri film invece arriveranno più in là nel tempo ma è giusto comunque tenerli in considerazione perché alcuni di questi sono comunque molto importanti innanzitutto voglio partire con quella che è la, pare essere la, come dire, ufficialità per quanto riguarda la data di uscita in Italia di quello che sarà il nuovo film di Wes Anderson cioè Asteroid City e infatti arriveranno nelle nostre sale a partire dal 14 di settembre è chiaro che manca ancora tanto tempo questo significa che nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi nulla vieta che qualcosa possa ancora cambiare perché mancano ancora almeno 4 mesi, sì, più o meno 4 mesi quindi dobbiamo ancora monitorare la situazione tra l'altro il film di Wes Anderson parteciperà appunto a quello che è il Festival di Cannes che si sta celebrando quindi cominceremo ad avere anche le prime notizie riguardanti proprio la qualità del film quelle che saranno anche le prime recensioni, le prime critiche al film staremo a vedere io lo attendo come attendo sempre i film di Wes Anderson per quanto questo regista per il sottoscritto abbia avuto nel corso degli anni un andamento un po' altalenante alcuni film mi entusiasmano, altri invece mi lasciano completamente indifferente però come tutti gli altri film vedrò anche questo anche perché di recente ho completato la filmografia di Wes Anderson chissà che magari nei prossimi giorni o nelle prossime settimane non ci scappi una classifica un'altra importante notizia riguardante un film che deve essere ancora realizzato quindi in fase di produzione è Assassination un film su quello che è l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy probabilmente analizzato, diciamo raccontato sotto il punto di vista di quella che è la malavita di Chicago e la cosa importante di questo film, di questa notizia soprattutto è che in questo film avremo la presenza di un cast particolarmente importante perché avremo tra gli altri Shia LeBev, avremo la presenza di John Travolta avremo Al Pacino ed infine anche Vigo Mortensen quindi davvero un cast che sembra davvero spettacolare mettiamo diciamo Shia LeBev probabilmente tra tutti quelli che ho elencato è quello meno rilevante ma a me piace comunque come attore ma stiamo parlando però per il resto di grandissimi artisti quindi film che mi incuriosisce staremo a vedere appunto in che modo racconterà l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy una storia che nel corso degli anni a livello cinematografico è stata raccontata tante tante volte quindi staremo a vedere un altro film che è in fase di pre-produzione o in fase comunque di realizzazione è Origin of Spaces di Ron Howard un thriller tra l'altro di cui ancora si sanno pochissime cose riguardanti la trama quindi non ci sono notizie riguardo ma quello che si sa anche in questo caso è diciamo si sta delineando il cast mettiamola così perché avremo tra gli altri Jude Law, Alicia Vikander, Ana de Armas e Daniel Brühl quindi anche in questo caso attori che io stimo particolarmente quindi non vedo l'ora di avere ulteriori notizie su quello che appunto è il nuovo film, il prossimo film di Ron Howard e anche in questo caso i film di Ron Howard si aspettano sempre con curiosità per capire di che cosa si parlerà vi ricordo poi che il 18 di maggio quindi se tutto va per il verso giusto ieri se questo video riuscirà ad uscire il 19 di maggio quindi venerdì il 18 di ma dal 18 di maggio abbiamo la presenza in sala qui in Italia del decimo capitolo della saga di Fast and Furious quindi Fast and Furious X tra l'altro un capitolo che si pensava fino a qualche settimana fa potesse rappresentare il penultimo capitolo della saga in attesa poi dell'undicesimo a quanto si è capito in realtà così non è sarà il terzo ultimo perché verosimilmente verranno realizzati il capitolo 11 e il capitolo 12 questo perché probabilmente si sono resi conto che si può ancora mungere quella che è la saga di Fast and Furious da un punto di vista degli incassi anzi mi sorprende che la stiano per chiudere perché questo è uno di quei classici prodotti che potrebbe andare avanti all'infinito senza mai in qualche modo portare a noia perché i grandi appassionati lo continueranno a vedere però ufficialmente dovrebbero esserci il capitolo 11 il capitolo 12 e poi si chiuderà lì per quanto riguarda le notizie da prendere in considerazione possiamo anche dare alcune news riguardanti alcuni due live action in particolar modo che dovrebbero essere realizzati nel corso dei prossimi mesi e quindi vedremo nei prossimi anni dovrebbero uscire uno è il live action di quello che è il film Lilo e Stitch chiaramente film di ormai una ventina di anni fa se non ricordo male sono incuriosito da quello che potrebbe essere il concept visivo di un film del genere staremo a vedere che cosa saranno in grado di fare come sempre io con i live action cammino con i piedi di piombo come se stessi camminando su un tappeto di uova quindi staremo a vedere perché il pericolo è dietro l'angolo così come spero davvero che non facciano idiozie con quello che pare essere il progetto di un live action su Dragon Trainer ora io amo follemente la saga di Dragon Trainer amo follemente soprattutto il primo capitolo perché è quello che mi ha suscitato anche delle emozioni più forti perché era la novità tutto sommato mi trovai di fronte ad uno spettacolo tutto sommato inaspettato io mi auguro davvero che non facciano stupidaggini perché anche qui il rischio è dietro l'angolo un'altra importante notizia che è cominciata a circolare nelle scorse ore è relativa alla possibilità che venga realizzato un nuovo film o staremo a vedere un nuovo franchise una nuova come dire un nuovo filone sulla Pantera Rosa con la possibilità che ad interpretare rispettore Clouseau sia Eddie Murphy già io prevedo come dire l'insorgenza di polemiche su polemiche chiaramente legate a quello che è il colore della pelle di Eddie Murphy anche perché storicamente rispettore Clouseau in Aura se non ricordo male non vorrei sbagliarmi ma è stato interpretato da attori caucasici o comunque diciamo dalla pelle chiaramente non nera perché mi ricordo che era Peter Sellers ovviamente Steve Martin credo che, sì, Roberto Benigni ma l'ho interpretato anche una volta quindi staremo a vedere appunto nel momento in cui dovesse essere ufficiale la notizia di Eddie Murphy come ispettore Clouseau che cosa succederà facile da prevedere ovviamente vi ricordo anche che a partire dal 25 di maggio quindi la settimana entrante dovrebbe arrivare nelle nostre sale salvo contrattempi che credo non ci saranno ormai tutt'al più bisognerebbe capire bisognerà capire l'entità della distribuzione nelle sale arriverà Daliland o Daliland non so la pronuncia esatta dovrebbe essere Daliland cioè il nuovo film con la presenza di Ben Kingsley nei panni di Salvador Dalì tra l'altro Ben Kingsley che non è neanche nuovo ad interpretare personaggi realmente esistiti uno su tutti Gandhi che gli ha permesso anche di vincere il premio Oscar come miglior attore protagonista un film che mi incuriosisce fosse anche solo proprio per il fatto di essere un film biografico ed io vado matto per questi film fosse anche solo per il fatto che c'è appunto Ben Kingsley grandissimo attore staremo a vedere l'unica cosa che bisogna capire appunto è la distribuzione che ci sarà qui in Italia ricordiamo poi anche come nei giorni scorsi ci sia stato il debutto a livello del Festival di Cannes di quello che il nuovo film con la presenza di Johnny Depp stavo per dire protagonista ma a quanto pare in realtà il suo ruolo è stato un po' ridimensionato sarà un coprotagonista e cioè Jean Dubarry quello che segna fondamentalmente il suo ritorno quelli che sono i grandi palcoscenici quindi a livello internazionale dopo tutte quelle che sono le vicende che lo hanno coinvolto da un punto di vista privato negli anni scorsi quindi grande ritorno di Johnny Depp che comunque anche al Festival di Cannes si è fatto un po' così notare in negativo per alcuni ritardi soprattutto durante le conferenze stampa ma lo sappiamo chiaramente Johnny Depp non è che cambia di punto in bianco anzi questo non succederà mai però sono comunque contento che stia lentamente ritornando ad una vita artistica normale poi sarà chiaramente come dire toccherà a lui dimostrare di essere ancora un attore valido penso che lo sia ma staremo a vedere chiaramente questo film mi incuriosisce spero di poterlo vedere chiaramente di poterlo vedere in sala non ricordo in questo momento quando uscirà ma chiaramente è nel mio personale Mirino un'altra notizia che mi ha fatto drizzare le antenne non poco è legata al cinema italiano perché? perché è cominciata appunto a circolare una notizia relativa a quello che sarà il prossimo film di Gabriele Mainetti e tra l'altro con delle prime indiscrezioni legate non tanto alla trama ma più che altro proprio alla tipologia di film e sono davvero come dire in fibrillazione perché si parla di un kung fu movie ambientato a Roma ora Gabriele Mainetti lo sappiamo negli anni scorsi ha già dimostrato secondo me seppur con soli due film di essere un regista più che valido di essere un artista davvero dalle grandissime potenzialità io ho ritenuto Freaks Out il film migliore della sua annata del 2021 quindi film di Gabriele Mainetti il fatto che Gabriele Mainetti si stia avventurando nella realizzazione di quello che viene detto essere appunto un kung fu movie ambientato a Roma beh io non so che cosa aspettarmi e probabilmente Mainetti non farà altro che confermare tutto quello che di buono ormai sta succedendo nell'ambito del cinema di genere italiano da una decina d'anni a questa parte quindi curiosità alle stelle già sono in hype nonostante ancora non ci sia praticamente nulla relativamente a questo film ma staremo a vedere chiaramente seguiamo insieme seguiremo insieme queste notizie vi ricordo anche che nella giornata di ieri nel momento in cui sto registrando in realtà è la giornata di oggi perché se tutto va bene questo video arriverà l'indomani di quando lo sto registrando quindi voi in realtà lo state guardando nel futuro rispetto a me nella serata di ieri quindi nella serata di giovedì è stato presentato al festival di Canne l'ultimo capitolo di Indiana Jones ora nel momento in cui sto registrando io ancora non ho notizie relativamente a quelle che sono state le reazioni del pubblico verosimilmente invece nella giornata di domani cominceranno ad esserci delle news a riguardo però siccome dovevo girare questo video non potevo rimandare oltre eventualmente ci riaggiorniamo qui sotto nei commenti nel caso in cui dovessimo avere appunto dei riscontri a riguardo tra l'altro Indiana Jones che con quello che è appunto il nuovo capitolo il quinto capitolo sarà uno dei grandi protagonisti di questa estate al cinema quindi staremo a vedere curiosità anche qua alle stelle ma non c'è neanche bisogno di dirlo per un grande appassionato di Indiana Jones e vi ricordo anche che nella giornata di ieri è stato pubblicato il primo trailer ufficiale di quello che è uno dei film che attendo con maggiore curiosità fra tutti e cioè Killers of the Flower Moon l'ultimo film cioè l'ultimo fino ad ora mi auguro che possa essere in realtà non l'ultimo ma il quintultimo film di Martin Scorsese quindi nuova pellicola del maestro Scorsese che arriverà nelle nostre sale nei prossimi mesi anche qui la data ufficiale in questo momento mi sfugge ma è stato pubblicato il primo trailer ufficiale e davvero sono già anche qui in totale hype perché il cast è stellare Donato DiCaprio e Robert De Niro tra gli altri quello che viene mostrato nel trailer in realtà già mi fa venire la pelle d'oca e siccome stiamo parlando di Martin Scorsese io credo che non ci possano essere dubbi relativamente a quella che poi sarà la qualità effettiva del film quindi Killers of the Flower Moon adesso parte ufficialmente il conto alla rovescia proprio perché abbiamo avuto le prime immagini ufficiali il primo trailer ufficiale voglio chiudere infine con quella che è stata la polemica diciamo ulteriormente aizzata da quella che è stata una clip del film in live action La Sirenetta anche questo in prossima uscita film che in realtà ha creato delle polemiche secondo me su diciamo quello che è l'argomento meno importante tra tutti e cioè il colore della pelle dell'attrice che interpreta La Sirenetta a me non me ne importa non me ne può importare un fico secco di quello che è il colore della pelle dell'attrice a me importa maggiormente capire quella che sarà la qualità complessiva del film e siccome nei giorni scorsi è stata rilasciata una clip legata soprattutto a quella che è la canzone in fondo al mare per intenderci cantata da Sebastian ed in particolar modo cantata da Mahmood nel doppiaggio del doppiaggio italiano di Sebastian io cominciò davvero ad avere qualche preoccupazione concreta su quello che sarà poi l'effettivo film io mi auguro che ancora debbano fare delle modifiche mi auguro che ancora debbano fare dei cambiamenti che il doppiaggio sia ancora in fase di rimodulazione perché quello che ho visto e ho ascoltato in questa clip con Mahmood che canta appunto in fondo al mare è qualcosa di per me inascoltabile davvero c'è soprattutto se lo mettiamo a paragone con quella che è la canzone presente nella quello che è chiaramente il film d'animazione Disney anche nella versione italiana ripeto di una trentina di anni fa ormai stiamo parlando ora il confronto non regge ma neanche lontanamente ma io non mi aspettavo di trovare qualcosa di paragonabile a quello perché con i live action non si può mai raggiungere il livello iniziale dei film d'animazione ma neanche cadere così in basso e quindi se il buongiorno si vede dal mattino non è per niente un buongiorno quindi staremo a vedere nelle prossime settimane che cosa uscirà fuori ho la sensazione che il film in live action della sirenetta ci farà discutere davvero tanto ripeto ma dovremmo farlo non per le motivazioni secondo me meno importanti cioè il colore della pelle di Ariel il colore della pelle dell'attrice che interpreta Ariel ma per altre cose come è successo del resto negli ultimi live action perché gli ultimi live action targati Disney sono uno peggio dell'altro ma sono stati identificati come orrendi per i motivi sbagliati cioè per i motivi che probabilmente sono i meno problematici secondo me non sono davvero neanche un problema perché ripeto a me del colore della pelle di Ariel me ne sta importando una benamata ma se il film poi non funziona o è orrendo quello è molto più problematico quello è chiaramente qualcosa di che davvero mi fa riflettere sulla reale utilità o per meglio dire inutilità di quelli che sono i live action targati Disney ma staremo a vedere e chiudo quindi con questa news quella che appunto è una nuova puntata delle news del doc quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di queste notizie commentiamole insieme qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate delle nuove uscite delle prossime uscite di quelli che sono i film ormai in dirittura in dirittura d'arrivo quindi tutto quello che desiderate chiaramente scrivetelo qui sotto nei commenti perché come sempre vi leggerò e vi risponderò molto molto volentieri io come sempre vi ringrazio per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo iscrivetevi al canale importante per farlo crescere ancora di più attivate la campanella per non perdervi neanche uno dei prossimi aggiornamenti poi vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete sostenerlo mettendo un like commentandolo come vi ho detto condividete fate tutto quello che desiderate e poi in descrizione trovate tutti i miei canali social nei quali ulteriormente seguirmi twitter, telegram facebook, instagram poi trovate una wishlist amazon se volete farmi un regalo ed infine un link amazon che io vi invito caldamente ad usare per fare qualunque vostro acquisto su amazon perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata al sottoscritto quindi questo è quello che potete fare per sostenermi ulteriormente noi ci becchiamo in un prossimo video in una prossima video recensione in una delle tante rubriche del mio canale ci becchiamo spero anche in quella che è la puntata della prossima settimana delle news del doc spero di poter mantenere una certa costanza non vi prometto nulla per il momento ma spero di poterlo fare io come sempre vi auguro una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti